Musica Vediamo quali sono i titoli principali dei quotidiani regionali di oggi partendo dalla prima pagina di Sassari Notizie. In primo piano bollenti i giorni della merla, dopo il weekend arrivano piogge e temperature bassissime. I giorni della merla dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno ma in realtà questi giorni confermano il trend dell'inverno, temperature che arrivano a toccare i 18-20 gradi nelle ore più calde della giornata. L'anticiclone sembra abbia trovato una postazione privilegiata nel Mediterraneo allontanando venti freddi e lo stazionamento delle nubi. I giorni della merla del 2016 saranno dunque caldissimi rispetto agli anni passati ma il primo weekend di febbraio sarà inesorabile. Fino al 6 e 7 febbraio avremo un tempo decisamente freddo con piogge e nevicate anche a basse quote. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina della nuova Sardegna. Cagliari colpo da primato, vince ad Avellino e torna in testa. Munari e Cerri, gli autori delle reti rosso-blu, 2-1 il risultato finale. Il Cagliari ha battuto l'Avellino nell'anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B. Un successo che permette agli uomini di Rastelli di scavalcare il crotone e passare a condurre la classifica con 52 punti. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina dell'Alger.it. Chiude la fondazione Lavagna, fuori due classi. A partire dal prossimo anno scolastico, niente più lezioni per gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Privato di Via Galilei. Salva la scuola d'infanzia invece, proteste però da parte delle famiglie. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina delle cronache nuoresi. Nuoro, fermati tre studenti per falso allarme bomba. I ragazzi sono stati sorpresi mentre chiamavano da una cabina telefonica. Tre studenti, due di 16 anni, uno di 17, sono stati fermati ieri mattina a nuoro dalle forze dell'ordine mentre effettuavano l'ennesima telefonata da una cabina pubblica per enunciare la presenza di una bomba in un istituto tecnico della città. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di ilatv.it. Finanziaria e riforma enti. Adesso la proposta della finanziaria 2016 è la riforma degli enti locali. Due atti in poche settimane che coinvolgono nel bene o nel male tutta la politica economica e società sarda. A poche ore dall'ultimo consiglio regionale il coordinamento degli enti locali mette i primi paletti del lungo percorso di confronto sull'applicazione della riforma in Rio e sulle ipotesi di tassazione previste dal nuovo documento di bilancio. Durissima la posizione della minoranza in consiglio regionale. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di Cagliari Pad. Volantinaggio e blocco del traffico all'ingresso di Iglesias Carbonia. Villa Massarge e Siriqua sulla strada statale 130 e sulla strada che collega Teulada a Sant'Antioco. Blocco del Sulcis e la mobilitazione prevista per il primo febbraio che è stata annunciata ieri mattina a Iglesias dalla CISL Sulcis Iglesiente in occasione della presentazione della mobilitazione generale popolare in programma per lunedì prossimo. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina dell'Unione Sarda.it. BMW contro mano sulla 131 provoca lo scontro tra 7 auto e 5 i feriti. Incidente stradale verso le 21.30 di ieri nella statale 131 al km 28 all'altezza dell'incrocio a raso di Nuramini su una BMW ha imboccato contro mano uno dei tratti della statale senza il guardrail centrando in pieno la fiancata di una Fiat Stilo condotta da una donna di Sardara, Patrizia Scano, che era diretta verso San Luri. Dietro la Stilo sopraggiungeva un'altra vettura che dopo aver urtato un guardrail si è ribaltata più volte fermandosi al centro della carreggiata. La BMW ha proseguito la sua corsa scontrandosi con due pulmini Fiat Scudo nei quali viaggiavano alcune suore e due gruppi di ragazzi. Convolte anche altre due vetture, sul posto sono intervenuti una patoglia della Polizia Stradale e quattro ambulanze del 118. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa regionale di oggi. Grazie per l'ascolto, buona giornata. Grazie per la visione!